Numero 8 Risto, numero 9 Arte Magni, numero 10 Tantei, numero 11 Fabinho, numero 14 Volta, numero 17 Belmonte, numero 18 Delprete, numero 27 Parigini. Allenatore, signor Pierpaolo Bisoli, a disposizione il numero 22 Zima, il numero 13 Rossi, il numero 15 Zebbi, il numero 19 Lassana, il numero 21 Di Carmi, il numero 23 Mancini, il numero 24 Zapata, il numero 28 Lanza Pane, il numero 36 Joc. Attenzione, comunicato istituzionale di solidale per l'infanzia sostiene l'associazione Bambini Senza Sbarre Ollus, che da 12 anni difende il diritto di 100.000 bambini di incontrare i propri genitori detenuti. Bambini Senza Sbarre ne accoglie già decimilagli i suoi spazi gialli. Per saperne di più visita il sito Bambini Senza Sbarre.org, Bambini Senza Sbarre, liberiamo i bambini. Per saperne di più, Bambini Senza Sbarre, liberiamo i bambini. Per saperne di più, Bambini Senza Sbarre, liberiamo i bambini. Per saperne di più, Bambini Senza Sbarre, liberiamo i bambini. No, 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 no. Naci, te eram them elice e i se et al come. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.